Con l'inaugurazione della filiale Dodic di Napoli si ufficializza oggi anche un importante partnership tra due importanti aziende, la Dodic appunto e la Sonfi. Ne parliamo ora con Simone D'Andrea, direttore generale Dodic e con Alberto Banzola, responsabile Italia, divisione accessi, sicurezza e smart home. Perché signor D'Andrea questa collaborazione? Quali le finalità? La collaborazione con Sonfi è per allargare l'offerta ai nostri clienti. Sonfi produce dei sistemi di smart home automation molto interessanti, wireless tra l'altro e adatti al mercato residenziale, quindi adatti a tutto il mercato esistente. Sono semplici da installare, non invasivi e questo permette quindi di allargare quella che è la potenzialità del mercato di questi prodotti. E quindi lo scopo è quello di offrire nuove opportunità ai nostri clienti su un mercato ad oggi ancora poco diffuso. Noi contiamo di fare la formazione che occorre su questi prodotti per farli conoscere e per poterli offrire in maniera professionale all'utente finale. Benissimo. Per quanto riguarda la voce direttamente da Sonfi, azienda tra l'altro francese con una grande esperienza alle spalle in automazione. Assolutamente sì. Presente in Italia dal 1978, dagli anni 60 siamo produttori, siamo a Clouse, dopo il Montebianco, subito dopo Chamonix. E ci siamo proposti in un mercato attraverso un partner come Dodic, che per noi è relativamente nuovo. Un mercato diverso da quello classico Sonfi, ma perché è diversa l'offerta che oggi Sonfi può proporre al mercato della sicurezza. E il mercato può recepire in maniera completamente diversa. Il mondo della Smart Home offre una grandissima opportunità e crediamo che un partner come Dodic, che è un leader nel mercato e soprattutto ha le stesse peculiarità nostre di essere dei pionieri, oltre che essere degli innovatori del mercato, possa solo dare ottimi frutti. Domotica, automazione e sicurezza. Un tris perfetto. Assolutamente sì. Noi li raccordiamo sotto il nome di Smart Home, perché con questo termine andiamo a toccare tutti gli ambiti da dove sempre Sonfi è riuscita a distinguersi sul mercato per innovazione e per capacità di riuscire a sviluppare prodotti che parlino lo stesso linguaggio tutti assieme, rendendo la casa un posto veramente migliore dove vivere.